Ed eccoci nel salone del Cambiaso, il salone principale del palazzo. Fu affrescato da Luca Cambiaso nel 1565. Il riquadro principale è una figura mitologica, è Ulisse che saetta i proci e intorno le lunette sono il percorso di Ulisse che rientra a Troia. Sopra il cammino del palazzo abbiamo Giovanni Battista Grimaldi, il padrone di casa, colui che fece realizzare il palazzo, di professione era banchiere e aveva prestato i soldi a Carlo V, re di Spagna. Esattamente, colui che è seduto di fronte a Giovanni Battista Grimaldi, sempre anche lui con lo scettro in mano. Alla destra di Giovanni Battista Grimaldi abbiamo Elena Doria, sua moglie, e l'unione delle due famiglie Doria e Grimaldi è ripresa anche sui decori del marmo. Gli stessi decori che poi vengono ripresi anche lungo tutte le pareti del salone. Le pareti sono state decorate da Gino Coppedè ai primi del Novecento e durante l'ultimo restauro si decise di non indagare se c'erano altri affreschi o decori alle pareti, perché molto probabilmente per scaldare gli ambienti venivano appesi alle pareti degli arazzi. Curiosità che io spesso suggerisco ai miei visitatori è quella di vedere quella finestra, esattamente sopra la porta d'ingresso da dove siamo entrati, era la finestra della servitù che stazionava il piano di sopra e che controllava se i padroni avevano bisogno al piano sottostante. Grazie a tutti.